e oggi per me diciamo è un piacere parlare con l'architetto dario banaudi docente al politecnico dario possiamo dire autore di un bellissimo libro che il legno e la pietra nel quale l'architetto banaudi parla in forma di romanzo di quella che diciamo la grande scuola dei maestri costruttori comunque a te la parola per una breve presentazione sia del tuo lavoro che della tua esperienza dai sì la presentazione sarà molto breve il l'amico ha già detto che io più che adesso sono pensionato dal politecnico quindi sono stato un docente del politecnico di composizione architettonica occupandomi soprattutto di piccoli centri storici che erano tra l'altro i luoghi di origine delle mie famiglie siccome il secondo di questi luoghi era campione d'Italia che è conosciuto oggigiorno soltanto per le vicende del casino io ho cercato di approfondirne la storia perché avevo sentito e letto in storia dell'arte che i maestri campionesi erano una grossa compagine di costruttori medievali e man mano che mi addentravo nei libri di storia dell'arte vedevo che hanno costruito tantissimo in Italia e addirittura in Europa sono stati fino in Russia l'altra questione è quella che io quando ho cominciato a studiarli sentivo questo termine maestri comacini e mi sono accorto anche lì nel corso della dello studio che questo termine è un termine molto generico che è diventato quasi mitico nel senso che nasconde quasi un'aura di mistero perché nessuno ha saputo dire da dove venivano esattamente questi cosiddetti maestri comacini poi vedremo anche l'origine di questo di questo modo di nominarli in ogni caso gli studiosi accademici sono andati poco al di là sulla questione che invece io trovo molto interessante perché essendo un architetto di quelli che vengono chiamati già dall'antichità operativi cioè un architetto che si occupa di tutta la fase della 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 progettazione della costruzione dal rilievo che si chiama dello stato di fatto cioè dal terreno dai luoghi dalle città o dal territorio in cui si fanno le costruzioni alla storia di quei luoghi al rilievo geometrico di quei luoghi perché c'è un rapporto proprio sul della giacitura dell'edificio col terreno che la sostiene e poi di tutto il cantiere costruttivo e quindi della riunione delle varie specializzazioni degli artigiani che sono i fabbri i muratori tagliapietra eccetera che contribuiscono insieme in una parte compatta alla costruzione dell'opera un vero architetto se mi puoi posso permettere diciamo di quelli che diciamo io sono di origine abruzzese da dalle parti mie quando qualcuno sapeva costruire era definito lumastro cioè il maestro certo esatte esattamente così infatti io un po scherzando lo dico anche nelle in questo libro che ho scritto sul duomo che ho scritto proprio per far vedere nel medioevo come funzionava la costruzione di un cantiere mi definisco nel libro l'ultimo dei maestri campionesi perché essendo a campione fin da quando ero un piccolo bambino e avendoci trascorso fra campione e milano tutta la vita finora ho sentito proprio me e forse non è stata una combinazione essendo io un architetto il dovere di approfondire la storia di questi maestri che mi hanno preceduto dai quali ho molto imparato perché io ho cominciato a studiare le loro opere a viaggiare per l'italia per la francia per la germania andando a cercarne le tracce perché perché il i cosiddetti segreti costruttivi in realtà non sono segreti simili a quelli alchemici cioè per la ricerca del tras di trasformare una materia in un'altra o cose di questo genere ma sono i segreti del costruire cioè le abilità costruttive necessarie per costruire come si suol dire ancora oggi anche se oggi si è dimenticato a regola d'arte le costruzioni palazzi e sia civili che religiosi loro costruirono non per niente vennero chiamati i costruttori delle cattedrali perché numericamente ed economicamente la maggior parte delle costruzioni erano costruzioni religiose perché la committenza era quella ed era quella che gestiva anche grandi patrimoni e utilizzava queste architetture per diciamo diffondere la religione dare uno spazio per la ritualità delle cerimonie eccetera eccetera quindi dicevo l'ultimo dei maestri campionesi e arriviamo a campione e ai maestri comacini adesso se mi permetti ti chiedo di poter condividere un powerpoint cioè una guida di immagine anche perché noi architetti parliamo soprattutto per immagini perché mi faccia da da traccia per quello che vi certo volevo soltanto dario anticipare un attimo per chi diciamo segue la la trasmissione che so che diciamo molto interessato a questi temi che noi affronteremo in altre puntate diciamo il tema della anche delle simbologie medievali e della costruzione del duomo di milano di queste cose ti sei occupato sei molto esperto però naturalmente affrontarle in un'unica chiacchierata si rischia di banalizzare no e anche di parlarne sommariamente quindi riprenderemo prossimamente in altre occasioni questi questi due interessanti temi senz'altro perché una cosa che ho dimenticato prima dicendolo e ci stavo arrivando è che uno dei metodi che sono tendono alla progettazione che fanno parte di quei segreti di cui parlavo prima sono la geometria la geometria che si rifà alla cosiddetta geometria sacra perché fino a non molti anni fa diciamo fino a uno o due secoli fa le costruzioni venivano costruite su una trama geometrica che controllava da una parte la funzionalità dall'altra la statica perché la statica non è stata controllata dagli ingegneri che sono nati come figura verso l'ottocento ma dagli architetti costruttori che venivano comunque chiamati ingegneri in un altro senso perché c'era un rapporto preciso fra le proporzioni geometriche di un edificio e la sua statica o la sua acustica l'altra valenza della geometria è quella sacra che dicevo prima perché le costruzioni si rifacevano al numero di al cosiddetto numero di dio la sezione aurea per esempio perché gli antichi diciamo pictagora per citarne uno hanno desunto dall'osservazione della natura che certe proporzioni certe figure geometriche certi numeri come quello della sezione aurea ricorrevano dappertutto in natura dalle proporzioni dell'uomo alla alla ai petali dei fiori ai ai fiocchi di neve qualcuno ha sentito parlare senz'altro di queste cose qui e così l'architettura in questo modo si uniformava alla mano o alla mente del creatore per cui l'architettura diventa un complemento della natura cioè nasce e cresce sulla base dei numeri che il creatore chiamiamolo così in maniera generale ha utilizzato ha espresso per fare questo mondo in armonia con con il cosmo se proprio vogliamo io volevo soltanto fare questa puntualizzazione che è molto interessante il tuo oltre che il tuo lavoro diciamo del romanzo il tuo punto di vista perché non è una cosa scontata avere un approccio oggi si direbbe multidisciplinare quindi valutare molti aspetti legati al discorso dell'architettura e non soltanto tecnici cioè non senza voler arrivare diciamo a puro diciamo quello che si definisce esoterismo o queste cose però andare a capire che c'è molto di più dietro l'arte di questi maestri costruttori che spesso si trascura ma non per colpa cioè ancora nel secondo libro che sto scrivendo sul Duomo di Milano nel quale ci sono delle diatribe fra i costruttori italiani e campionesi in particolare e gli stranieri il campionese che è il protagonista del mio libro ma è un personaggio realmente storico che è Marco da Carona risponde a certe critiche dei francesi citando Vitruvio quindi uno dei segreti era il possesso comunque di questi manuali antichi di architettura o di geometria che erano rarissimi mi è venuto in mente questo perché tu hai citato le varie competenze nell'introduzione dal suo libro che è un grande manuale di architettura Vitruvio cita nove caratteristiche che deve avere l'architetto per essere un architetto completo fra queste caratteristiche ci sono la geometria la letteratura l'astrologia che a quei tempi non era solo la previsione del futuro come si è banalizzato adesso ma era la conoscenza degli astri la conoscenza delle influenze degli astri sulla terra che sappiamo bene c'è anche in agricoltura ma c'è anche attraverso l'illuminazione per esempio degli degli edifici l'orientamento degli edifici che viene desunto dalla dall'inclinazione del sole nelle nelle varie stagioni eccetera eccetera quindi gli antichi sapevano bene questo e un architetto doveva conoscere tutti questi elementi che intervenivano come ho detto prima per per migliaia di anni nella costruzione degli edifici non mi vorrei sbagliare ma mi pare che Vitruvio faceva anche una sorta di come dire di passaggio su un discorso anche etico morale dell'architetto non mi pare no? Credo di sì perché la persona dell'architetto doveva avere delle qualità diciamo per semplificare questo è certo perché in un'altra conferenza che magari faremo in cui parlerò se potremo delle confraternite dei costruttori che avevano di base dei regolamenti ho ho capito guardando vari archivi di varie città italiane anche straniere in Francia in Germania che erano identiche le regole da rispettare e una di queste era proprio quella che dici tu essere onesti far bene il proprio lavoro non ingannare il committente c'era addirittura un priore addetto a visitare le botteghe degli artigiani una volta al mese per controllare che usassero buoni materiali eccetera se non venivano cacciati dalla confraternite cosa che oggi non esiste oggi potremmo invece questo c'era in tutte le confraternite ed è uguale il proprio questa cosa della visita una volta al mese l'ho trovata a Nizza a Strasburgo eh a Venezia a Milano a Campione quindi era diffusissima regola l'onestà del del costruttore bene poi puoi andare con la condivisione allora questa è la prima diapositiva che ci dice già molto del dei maestri campionesi e vedete che ho scritto e maestri del lago e ho scritto la cifra nel tappeto che è tra l'altro il titolo di un racconto eh inglese ehm in cui c'è proprio questa ricerca attraverso dei piccoli indizi di un qualcosa di generale che spieghi un un accadimento ehm maestri del lago perché è un un modo di dire che è stato adottato negli ultimi dieci dieci vent'anni eh proprio per non avere più questa ambiguità di dover spiegare eh che cosa significa maestre Comacini poi lo vedremo perché questo termine aveva creato delle ambiguità che poi eh vi dirò eh campionesi per cui ehm io credo in tutti questi anni di studio di aver dimostrato di poter dimostrare che campione era il punto centrale cioè il baricentro del dei luoghi eh dove sono nati eh sono vissuti e poi sono emigrati perché hanno costruito eh altrove i maestri campionesi questo punto che segno si vede con la freccetta è campione d'Italia voi vedete che davanti c'è una parte di demagnale perché campione come molti sanno e altri non sanno è una cosiddetta enclave italiana in Svizzera cioè qui c'è Lugano qui c'è campione qui sotto c'è Como e qui c'è il lago di Como se ne vede solo eh una parte qui il lago di Lugano è questo vedete che io ho circondato di un cerchietto rosso i posti principali da cui vengono quasi tutti gli architetti e la compagine cioè i cantieri di architettura quindi tutti gli artigiani che dal settimo ottavo secolo fino al millequattrocento quindi sono tanti anni hanno costruito per dire tutte le cattedrali dell'Emilia Romagna basterebbe solo questo questo è campione questo è Bissone che è il paese di origine di Borromini che è un architetto del seicento però è partito di qui anche lui ma vedrete che eh i Bissonesi eh hanno fatto parte sempre di questa compagine di maestri venivano chiamati o di Como per quello è quella una delle ragioni per cui Giacomaccini perché eh essendo Como non molto distante e facendo parte questi luoghi in parte perché campione ha poi fatto come vedremo parte del della diocesi di Milano prima dicevo facevano parte della diocesi di Como e quindi se uno andava a lavorare a mille chilometri di distanza e gli chiedevano da dove veniva diceva per esempio sono Giovanni da dove vieni da Como non diceva da Bissone perché non sarebbe stato riconosciuto da Melide per esempio sono venuti già prima costruttori che sono stati al Duomo eccetera però i più famosi lavorano per Sisto Quinto sono la famiglia Fontana pensate che Fontana è era il capo dell'edilizia del Vaticano quando fu elevato il l'obelisco di piazza San Pietro ha fatto il innumerevoli edifici per il Papa ha fatto il cosiddetto piano di Sisto Quinto quindi da questa da questi luoghi che se facciamo eh centro su campione e e che e disegniamo questo cerco giallo adoperiamo un'apertura di compasso di tre quattro chilometri è una cosa che fa impressione infatti se non so se non so se hai idea di dirlo dopo però la domanda che volevo farti è come mai in una area così se vogliamo ristretta piccola non dico di provincia però non è certo una metropoli quella zona lì com'è che si è concentrata tutta questa conoscenza così profonda questa è proprio quello che vi dirò tra poco è la prima domanda che mi sono posto ragazzino a campione sentir parlare di questi maestri cominciare a studiare storia dell'arte vedere che ha costruito in tutta l'Europa diciamo come è possibile che questo paese che nel momento in cui ero bambino una parte erano croupier come mio padre perché c'era il casino che però è un portato di alcune cose che sono successe a campione e l'altra erano pescatori e allora è proprio da quella domanda che mi sono posto non solo io alcuni altri ma pochi il principale è giuseppe merzario infatti il libro secondo me fondamentale che è stato fatto nell'ottocento sono due enormi volumi anch'io per quello sto facendo due volumi un po più piccoli in cui lui che era uno senatore della repubblica del nato a como credo comunque del comasco ha cercato in tutti gli archivi d'italia con l'aiuto di altri studiosi per andare a vedere cosa avevano fatto questi maestri di como e quindi ha radunato un sacco di nomi di referenze e di documenti e ha dimostrato per primo è che tutti vanno da qui l'altro paese guardo adesso è carona il mio alter ego che è colui che scrive il suo diario io ho scritto il libro sul duomo in forma di diario marco da carona stava carona è andato a campione ma per allora si scendeva con una stradina che c'è ancora adesso da carona al lago poi con una barchetta si andava fino a campione la gente di carona i caronaschi andavano a campione già a scuola di scalpellino di carpentiere eccetera perché campione diventò per le ragioni vi tengo in sospeso che vedremo dopo diventò il luogo in cui c'era anche la scuola e quindi irradiava poi queste specializzazioni in tutti i cantieri d'italia andiamo avanti ecco uno dei motivi importantissimi sono vari motivi che hanno fatto sì che campione sia diventato il luogo che abbiamo detto finora campione sta da queste parti qui infatti e vedete già che qui si riuniscono molte strade le due principali strade che vengono dal nord qui si va verso i grigioni e quindi l'austria qui si va verso il gottardo quindi la svizzera interna e la la baviera e girando un po sulla sinistra si va in francia la francia è subito qui di lato poi c'è una trasversale parallela più o meno diciamo all'arco alpino che attraversa queste valli qui da che non si vede c'è la valtellina comunque diciamo che riunisce campione attraverso le valli che scendono giù al lago di come con la parte alta della lombardia arrivando fino alla parte alta delle venezie e a trieste che viene raggiunta anche da questa strada che è la strada come vedete che da milano va a bergamo e prosegue verso venezia l'altra strada è la via emilia prima vi ho citato le costruzioni dei campionesi che sono tutte lungo la via emilia e poi con qualche deviazione per esempio verso ferrara qui si va verso qui c'è novara verso torino in piemonte non ne parlerò se no la cosa diventerebbe troppo lunga c'è tutta una serie di costruzioni che possono in qualche maniera essere legate alle maestranze quanto meno lombarde di questa zona e questa trasversale passa vedete qui per il lago maggiore e arriva attraverso il lago il naviglio che poi è stato ampliato e ramificato a milano questa strada vi anticipo è quella che facevano i campionesi per andare a candoglia che è il luogo da cui proviene tutto il marmo con cui è fatto il il duomo di milano il trasporto avveniva via via lago con barconi e poi attraverso il naviglio arrivava fino a dietro il duomo è rimasto un toponimo che è il laghetto perché dietro il duomo lo lo scrivo nel mio libro eh c'era un laghetto dove al quale facevano capo gli scarichi di tutti questi materiali è una storia lunga ma bellissima perché eh porta a moltissime opere eh tipo di pulizia del naviglio di costruzione di un naviglio nuovo di allargamento di costruzione di chiuse eccetera eccetera quindi già ne parlavamo ne parlavamo insieme cioè la costruzione del duomo è quasi equivalente alla mole di lavoro logistica per organizzare un cantiere di quel di quella portata l'affronteremo questa cosa perché è molto interessante certo perché eh per un cantiere di quelle dimensioni era necessaria un'organizzazione enorme perché doveva controllare tutto eh dalla parte economica alla parte tecnica quindi nei registri del duomo c'è la descrizione dei sopralluoghi sul naviglio dell'incarico dato all'ingegnere idraulico per fare la manutenzione delle chiuse vecchie farne di nuove è una cosa interessantissima quindi come vedete non è una mia invenzione perché il mio paese ma è chiaramente già dal punto di vista viario il baricentro delle vie che dal nord vanno al sud perché poi da qui andiamo anche fino a Roma e se vogliamo da qui andiamo a Santiago di Compostela cioè siamo in un baricentro europeo perché però campione che comunque ha questa caratteristica baricentrica diventa sempre più importante i i fautori coloro che hanno fatto la fortuna di campione sono i longobardi per vari per varie ragioni ora io mi ricordo di averlo studiato a scuola anche perché subì un'interrogazione da parte del professore di storia il seconda liceo che mi disse mi parli del dell'editto di rotari perché avevamo fatto un po' di rumore e mi chiamò fuori dell'editto di rotari non sapendo che era il mio pane cioè io avevo già cominciato a studiare bene i longobardi perché avevo sentito qualcosa a campione che centrava i longobardi e quindi lo sapevo già bene però poi qualche anno fa io ho voluto approfondire perché i miei studi si basano non sulla fantasia ma sulla documentazione storica qualcuno potrebbe dire scientifica quando si dice scientifica vuol dire che c'è una base documentaria ci sono delle ragioni precise non ci sono delle ipotesi che non hanno un fondamento concreto allora l'editto di rotari che cos'è del 643 dopo cristo quindi siamo nel settimo secolo poco più i longobardi arrivano verso la fine del sesto secolo quindi è uno dei primi re longobardi che si accorge siccome i longobardi erano una popolazione nomade i longobardi storicamente provengono da cosiddetta pannonia che è più o meno l'attuale ungheria e prima della pannonia provenivano dalle zone baltiche più specificamente intorno a quella che oggi è la finlandia e quindi comunque andavano a cavallo sapevano tirare d'arco si spostavano però con le tende e al massimo se dovevano fare delle piccole fortificazioni per difendersi le facevano con legno quindi non erano non conoscevano l'uso della pietra anche perché non gli era specialmente necessario no allora rotari si trovò di fronte con gli altri re longobardi o duchi longobardi perché per chi non lo sa dico e sono stati i primi e i longobardi che dell'italia hanno fatto una confederazione l'italia longobarda era divisa in ducati quindi c'era un ducato che faceva capo a pavia non a milano poi si avvicinò a milano poi c'era un ducato che faceva capo alla zona delle marche un ducato che faceva capo a torino un altro che faceva capo a benevento vedete che qui in mezzo si salta una grossa parte del territorio italiano che è il papato che ha in quel momento era uno dei più grandi proprietari che di fatti ha avuto qualche problema con i longobardi ducato di benevento che curava diciamo l'italia meridionale il l'editto è fatto per adeguare la vecchia legislazione romana cioè il diritto romano che aveva un fondamento diverso da quello di un popolo nomade aveva un fondamento giuridico di cui si parla ancora oggi importantissimo ben specifico su questioni che riguardavano per esempio la città mentre i longobardi essendo dei nomani dei nomadi non sapevano neanche cosa fosse una città parlavano di territorio parlavano di terreni parlavano di cavalli e di furto di cavalli parlavano di strategie matrimoniali come ci si sposa se tra famiglie o no di un luogo parlava di occhio per occhio cioè se qualcuno avesse ferito un altro insomma era un tipo completamente diverso di legislazione diciamo anche pratica che si adeguava a molte questioni quotidiane e pratiche per quanto riguardava la costruzione i longobardi si sono trovati a dover invece impiantare delle città costruire il palazzo del duca costruire la chiesa perché i longobardi che erano dei a quei tempi cioè ai nostri tempi vengono chiamati tutti barbari in realtà non erano dei barbari avevano una loro religione delle loro credenze che possono essere assimulabili e sono un po' più conosciute a quelle non so dei certi quindi che riguardano di più la natura le forze della natura eccetera ma arrivate in italia forse anche perché capirono politicamente diplomaticamente visto questa grande presenza papale che non poteva essere un nemico doveva essere un alleato si avvicinarono alla legione cristiana alla religione cristiana ma attraverso l'aria mesimo erano quindi comunque non perfetta non non cattolici ma già cristiani e pian piano poi vedremo ci fu una regina teodolinda che fece un'opera di cattolicizzazione dei dei longobardi allora dicevo per poter rispondere a queste necessità costruttive chi trovarono i longobardi lungo le loro vie arrivando appunto nella zona del comasco del milanese e arrivando dal nord dalla baviera perché una parte veniva dalla baviera e sempre sarà qualche diapositiva dopo fu teodolinda che venne prima di rotari si incontrò dei maestri costruttori che non erano ancora del livello che assunsero negli anni e nei secoli successivi ma comunque erano gli unici a cui ci si poteva rivolgere per costruire da una casa fino a una chiesa o fino a un palazzo o le mura di una città e allora nell'edito di rotari furono introdotti due articoli che sono il 144 e il 145 dove per la prima volta viene usata per scritto e quindi comunque viene usata perché se no non lo sapremo scusate la dizione magister cumacinus ed è da qui che parte il il fatto la la definizione maestri cumacini e allora poi durante i secoli siccome ci sono stati secoli in cui pian piano si sono perse queste diciture si è persa la documentazione per esempio dell'edito di rotari io perché sono voluto andarmi a leggere l'originale questo originale è il primo dove è stato scritto magister cumacinus mentre molti cosiddetti studiosi e anche accademici questa pagina non hanno mai guardata l'hanno sempre riportata come si sole soleva dire mi pare vincenzo monti dai traduttori dei traduttori cioè un errore si è perpetuato nei secoli perché non ci si è peritati di andare a vedere l'originale magister cumacinus è scritto chiaramente è di como per di più una ragione in dialetto e a quei tempi a quei tempi non nel sesto secolo ma nel momento in cui si formava la lingua italiana e si parlava quindi un dialetto locale como come adesso si diceva com con due m e qui la metà di comacini è proprio com qualcuno disse come vi ho detto io prima è perché tutta quell'area lì dove erano concentrati sti maestri che lavoravano la pietra e vi si trovavano anche molte cave perché intorno come vi ho detto prima lago maggiore lago di como e lago di lugano c'erano molte cave di granito di marmo eccetera quindi necessariamente dall'antichità molti si erano specializzati nella cava della pietra e nella lavorazione della pietra della pietra l'articolo ci dice anche qualcosa di più più importante cum consortibus suis cioè con coloro che ne condividevano la sorte coi suoi soci e già qui si vede che i maestri comacini agivano come compagine prima vi ho prima vi ho parlato di confraternita cum fratres non per niente i frate i costruttori è un lapsus freudiano anche al duomo si chiamavano fratelli perché facevano parte di un'unica famiglia che era legata da una solidarietà profondissima che io ho visto dimostrabile anche lì con i documenti del duomo nelle diatribe con i concorrenti con gli stranieri e tutti i campionesi vincono sempre perché sono uniti fra loro nessuno in tutti i registri del duomo non ho letto un insulto da uno all'altro mentre invece il più famoso maestro francese al mio alter ego marco da carona durante il processo gli disse tu sei uno zotticone e un montanaro e il i vecchi perché marco era il più giovane maestro ingegnere io immagino gli abbiano messo la mano sul braccio e gli abbiano detto non rispondere infatti ve l'ho detto prima tornando tornando a quello che vi ho detto prima marco aspetta un po' poi risponde citando ritruvio non risponde con insulti o cose di questo genere e elencando con le misure le fondazioni le pietre di fondazioni dei dei pilastri cioè abbiamo fatto per tot piedi una base di sarizzo eccetera 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 quindi vedete già che c'è un'altra ragione per cui i campionesi e poi vedremo un documento proprio che dimostra perché campione i campionesi che facevano erano comunque la parte preponderante di questi comacini perché erano i più vicini ai laggi no attraverso le valli teodolinda ci fa tornare indietro di un momento perché l'ho scritto apposta la data teodolinda il suo regno comincia nel 586 l'edito di rotari è del 643 quindi lei è di più di 50 anni prima teodolinda è una figura fondamentale questo affresco è un affresco che chi ha la possibilità invito di andare a vedere che però non è dell'epoca di teodolinda è della metà del trecento opera della famiglia della famiglia degli zavattari che però riprendono perché in quel periodo lì è il periodo poco prima della costruzione della fabbrica del duomo quindi ci sono tutti gli elementi che questi pittori hanno visto al duomo o hanno visto nel duomo di monza perché teodolinda chiama i cosiddetti lombardi che sono poi quelli di campione ed intorni per farsi a monza la reggia estiva cioè un palazzo e una cattedrale dedicata a san giovanni ancora oggi è dedicata a san giovanni che è in mano ai lombardi per sempre tant'è che quando inizia il duomo di milano contemporaneamente matteo da campione ha l'incarico di costruire duomo di costruire di ampliare il duomo di monza e di dargli le le fattezze che ha oggi e quindi come vi dicevo questa illustrazione è stata presa deviso dai pittori perché un cantiere così lo vedevano sia a milano che a monza vedete che i loro cappelli insomma ci sarebbe da descrivere molto ma comunque si vede colui che mano che adopera i bastoni i mattoni e colui che fa la calce e chi col cemento fa le basi per salire con la costruzione chi fissa i mattoni e le pietre questo è quello che versa il cemento per impastarlo questo porta una pietra e altri materiali eccetera eccetera e teodolinda con la sua corte visualizza il cantiere l'altro personaggio che qui non c'è è liut brando perché lui anche lui è il re che viene una cinquantina d'anni re longobardo da 50 anni dopo rotari e fa un altro editto apposta per i costruttori memoriatorium mercede cumacinorum e vuol dire la i costi dei maestri cumacini e lì c'è un elenco bellissimo di vari tipi di opere quanto costano per i mattoni quanto costano per in pietra quanto costano a casa col tetto e poi anche era già in parte accennato nelle nell'editto di rotasi di rotari le responsabilità se una casa crollerà il maestro comacino dovrà risponderne riparare i danni sarà verificato tutto insomma sarebbe molto da imparare anche oggi eh certamente anche perché queste due cose questi due ditti non sono come leggi come le leggi di oggi che sono farraginose per cui dicono tutto il contrario di tutto allora se tu vai come è capitato a me per 50 anni da un'impresa anche in questi giorni ho a che fare con un'impresa a cercare di contestare un lavoro emana al capitolato ce l'ha scritto così cosa per cui ne vieni fuori con le minacce ma legalmente se no devi fare causa allora la cosa si risolveva molto più rapidamente e quella è un'altra adesso verrà la ragione principale diciamo la ragione precedente è quella che in quell'area si è format si sono formate per questioni geografiche e di strade delle maestranze che sapevano usare la pietra chi c'era campione c'era un longobardo in quel periodo lì qui siamo nel 777 cioè a un certo punto i longobardi cosa fanno avendo diviso come vi dicevo prima l'italia in ducati adoperano anche dei cosiddetti ai tempi si chiamavano anche a rimanni che da cui è poi venuto alle manno perché i longobardi venivano considerati tedeschi tant'è che alcuni dei maestri campionesi come il principale non marco ma il suo maestro viene chiamato in dialetto il tedesco i longobardi mettono sui confini totone era soprattutto un commerciante comunque mettono dei personaggi importanti dal punto di vista commerciale e dei rapporti con la sede centrale quindi dei piccoli nobili eccetera che avessero a loro disposizione una piccola forza militare che non doveva servire per le battaglie ma doveva servire perché se c'erano delle invasioni dei problemi potevano dare una prima risposta chiamare rinforzi e fare un po da sentinelle diciamo dei confini totone era un grande commerciante da cosa l'ho dessunto dal fatto che nel libro di ludovico antonio muratori che raduna libri sono tanti i principali documenti dell'alto medioevo ci sono su non so mettiamo su 200 documenti 70 riguardano campione ed intorni e qualche parente dei totoni perché era un nome di famiglia che stavano dalle parti dell'attuale varese dalle parti di como uno però l'ho trovato a napoli e poi se ho tempo vi dico il perché perché ho voluto dire ma come mai questa famiglia era così importante perché evidentemente erano vicini vicini agli stadi alti nel potere e ho trovato facendo un viaggio apposta a cava dei tirreni dove c'era una delle biblioteche più importanti del medioevo ed era vicino a benevento vi ho parlato infatti del ducato di benevento il notaio dello stato del ducato di benevento si chiamava totone quindi insomma questi qui avevano dei lunghi legami allora il signor totone che l'ho capito da quei documenti c'è un documento in cui ha venduto degli schiavi ma gli schiavi già al tempo dei longobardi non erano personaggi che venivano frustati come nella nella mitologia popolare viene detto erano dei collaboratori che però avevano degli obblighi quindi non potevano scappare andare da un'altra parte però in i longobardi li resero presto liberi li chiamavano aldi quindi mia mamma si chiamava al da tra l'altro gli gli aldi erano degli schiavi liberti che coltivavano la terra piuttosto che facevano gli scriba e piuttosto che aiutavano nel commercio i loro padroni cosa fa questo signor totone che evidentemente era una persona molto intelligente e molto proiettato nel futuro vede che ha dei problemi col vescovo di como vi ho detto prima che questi terreni queste questi luoghi dell'attuale canton ticino alta lombardia erano in gran parte facevano in gran parte parte della diocesi di como però insieme su questi stessi territori c'era diocesi di milano ben più potente perché faceva capo a milano non solo ma la diocesi di milano si permetteva di arrivare mi pare fino a disantis cioè nel nord della svizzera attuale ha avuto dei dei regali diciamo delle delle proprietà che diventare diventarono eh delle milanesi in un certo senso e anche verso l'attuale grigioni l'attuale grigioni italiano ci sono dei castelli che erano milanesi o Bellinzona stessa le mura di Bellinzona che è la capitale del ticino sono state state costruite in gran parte da guini forte solari che era il pronipote di marco da carona vedete che tutto torna allora eh totone disse eh ma sto vescovo di como mi dà fastidio perché gli faceva impagliare dazi per esempio quando loro arrivavano a capo del lago di Lugano che ancora oggi si chiama c'è un paesino che si chiama capo lago e poi eh dalla dalla barca o nave mettevano le merci su un carro e quel carro doveva pagare un dazio al vescovo di como perché doveva attravestare le strade comasche anche se passavano dal lago maggiore avevano un problema analogo per cui totone cosa fa fa testamento a favore degli abati di sant'ambrogio di Milano e del vescovo di Milano vediamo se vi ho scritto qui eh ovviamente un riassunto ma che è molto utile eh regnante Carlo in Italia e qui stiamo parlando di un re Carlo che è l'imperatore del sacro romano impero nell'anno eh nell'anno terzo del suo regno eh io toto figlio di Arocchi pensate che ancora oggi c'è una famiglia campione che infatti me ne sono grati gli ho detto ma voi che vi chiamate ai raghi derivate da quel suo signore che era il papà di totone del luogo che si chiama campelionis cioè campione finis seprienses eh la ehm la circoscrizione del seprio è un'altra circoscrizione longobarda a Arsago seprio c'è un bel museo è un bel battistero e lì ci stava totone il vecchio cioè il papà del signor totone adesso un attimo solo mi viene soltanto un'idea vai avanti certo no così una una parentesi hai fatto veramente un lavoro incredibile cioè che immagino forse pochi o nessuno diciamo ha approfondito in questa maniera e che soltanto chi è del luogo può può approcciare in questo modo o mi sbaglio no no non ti sbagli perché io eh quando parlavo con i miei studenti eh con i quali un paio si sono laureati su campione e però gli ho fatto costruire un edificio che partiva come base dalla casa di totone che eh ho fatto io scavare dalla soprintendenza essendo poi da loro nominato ehm ispettore onorario del ministero e quindi come dici tu poteva essere solo uno del luogo che per passione e interesse c'entra il fatto che io sia un architetto se fossi stato un impiegato postale magari era un po' più diverso diventavo uno di quelli studiosi di storia locale ma come dicevo prima io e i miei studenti dicevo dobbiamo quando restauriamo un edificio o quando interveniamo su un piccolo centro soprattutto perché nei grandi ci sono c'è la storia grande no dobbiamo impararne la lingua e la lingua vuol dire per esempio il dialetto io conoscendo il dialetto di campione e di fatti una parte del mio libro i dialoghi come erano di fatto tra i maestri sono il dialetto campionese che è poi un dialetto lombardo abbastanza comprensibile ho potuto leggere gli statuti di campione che sono del 1200 perché certi hanno tradotto certi termini non capisce che sono un latino dialettizzato o un dialetto latinizzato quindi parlare la lingua del luogo e conoscerlo bene ti serve anche per fare la ricerca archivistica e poi continuando a passeggiare vado spesso a bermi il caffè nella piazza di campione adesso sto in un paese vicino in svizzera perché mi vedo davanti queste cose io ho fatto tutta una serie di opere a campione che derivano tutte da questo studio e che ho messo in un libro scritto su campione che adesso non so se si trova neanche più perché ho voluto dimostrare che le mie opere campionesi derivano tutte dalla conoscenza del territorio e trasmettono al futuro alcuni elementi che si erano totalmente persi molto molto interessanti tornando a noi cosa regala in in testamento cosa dona in testamento totone agli abbati di sant'ambrogio soprattutto perché vi dicevo il vescovo di milano forse ci aveva fin troppo da fare e lascia a loro la gestione di quei beni anche perché mentre il vescovo governava milano che era già una cosa molto grossa importante e la diocesi gli abbati di sant'ambrogio come vi ho detto prima avevano già dei nuclei di monasteri in giro per la lombardia e magari anche oltre la lombardia quindi avevano dei punti di irradiazione del potere allora lui dice regalo agli abbati di sant'ambrogio la casa e le mie abitazioni se qualcuno è stato a campione o lo vedrà adesso anche solo guardando su google a parte la la parte di espansione nuova che si individua perfettamente che ha un po rovinato campione il nucleo storico è piccolissimo cioè è lungo 150 metri e profondo 100 una cosa di questo genere che io ho analizzato rilevando casa per casa e trovando dentro queste case delle murature che risalevano a quell'epoca quindi totone regala praticamente il paese cioè lui era il padrone del paese e alcune di quelle case erano abitate appunto dai maestri dai pescatori la struttura di campione è proprio la classica struttura del lotto si chiama lotto gotico cioè di lotti stretti e profondi sul davanti al piano terra c'era la bottega sul dietro c'era il magazzino al primo e secondo piano c'erano le parti di abitazione dietro ancora c'è una piazzetta che c'è ancora oggi dove invece c'erano le stalle gli animali eccetera e tutta la cosiddetta io la chiamo palazzata ma in realtà erano delle piccole case alte però le vediamo anche a montepulciano per dire no che sono sempre strette e alte e tutti hanno questa struttura solo che a campione io ho cercato di descriverlo un po' nel libro ho potuto immaginarmi i colpi di martello che si sentivano sul lungo lago o le imprecazioni perché uno si era picchiato il martello sul dito piuttosto che il carpentiere che piallava le travi che poi mandava giù eccetera eccetera e lui introduce questa parola exenodochium che cos'è lo xenodochio è il ricovero dei pellegrini che però oggi chiameremmo l'albergo il posto dove chi fa un viaggio lungo si ferma perché può lasciare il cavallo o se va a piedi può dormire lì può mangiare eccetera eccetera e lui dice anche vi chiedo regalandovi io tutte queste cose che comprendono le case qui dopo dice i cortili gli olivetti io ho sistemato la passeggiata del porto di campione e ho piantato alcuni ulivi che a campione non c'erano più da secoli però totone e le sue sorelle regalano dei bidoni di olio alla chiesa di san vittore a milano quindi vuol dire che a campione c'erano degli uvidetti i massari che sono i capi i massari insomma no e quelli che gestiscono i gruppi di terreni quindi lui sotto di sé aveva già dei massari gli aldiones sono quelli di cui vi ho parlato prima quindi i servi collaboratori diventino potestà degli abatti di sant'ambrogio e chiede in cambio soltanto ma quello che dicevano molti non mi ricordo se lo scrive anche lui salvataggio dell'anima mia in realtà quello era una cosa una formula ma la costruzione dell'oxeno d'occhio è quello che lo fa vedere lontano perché cosa fa nello xenodocchio riserva una parte ai pellegrini poveri come adesso c'è per chi va con postela in certi punti ti ospitano quasi gratis e ti danno una minestra e lì avveniva la stessa cosa però nello xenodocchio si fermavano anche che adesso adesso dico probabilmente non è passato di lì ma uno come dire che è stato in italia se veniva giù e passava di lì si fermava lì perché c'era un bel albergo con il lago con dei servizi vicino c'era un monastero perché perché quando fu costruito l'oxeno d'occhio che fu un po di anni dopo perché totone a quell'epoca lì aveva circa 35 anni quindi non stava per morire usufruì della protezione degli abati di sant'ambrogio probabilmente per almeno 20 o 30 anni poi gli abati di sant'ambrogio cosa fecero? Fecero di campione un loro feudo misero lì un abate che era il feudatario e gestirono da campione appunto tra l'altro i maestri campionesi come vi sto spiegando ecco però quello xenodocchio è importante perché uno degli elementi che dà questa grandezza in un posto piccolo ai maestri campionesi è che c'era un monastero fra i più importanti d'Europa dove passavano fra le persone più importanti d'Europa perché Teodolinda è senz'altro passata di lì magari non c'era appunto ancora l'oxeno d'occhio perché era prima ma era la strada per venire a Milano e quindi e nel monastero c'era senz'altro qualche scriva c'era senz'altro una biblioteca c'era uno scambio con Milano per cui un giovane scalpellino di campione che appariva ai monaci magari il monastero di Sant'Ambrogio ne aveva messo lì 12 non 200 12 perché è un numero classico e io anche di questo parlo nel libro e immagino che Marco da Carona essendo persona intelligente e perché lui conosce Vitruvio perché qualcuno gli ha insegnato a leggere e scrivere e gli ha insegnato il latino lui veniva da Carona dove erano ancora un po' grezzi è andato a scuola a campione a campione hanno visto che era intelligente e lo hanno mandato nella bottega anche questo lo racconto abbastanza bene ovviamente di fantasia di Jacopo da campione che però poi a Duomo diventa il suo maestro quindi è chiaro che lui è andato a bottega da Jacopo Jacopo si accorge che questo era bravo intelligente e cosa fa? ti mando a scuola e lo manda dai monaci i quali gli insegnano a leggere, scrivere, disegnare far di conto insomma lì lui impara addirittura il latino e può leggere Vitruvio perché evidentemente se non c'era a campione una coppia di Vitruvio quando c'era un elemento come Marco da Carona gli abati lo mandavano al monastero di Milano a specializzarsi dove invece il testo di Vitruvio c'era quindi è tutta una cosa che funziona così allora vedi anche tu e chi ci ascolta piano piano perché questo piccolo posto per varie che non sono casi per varie connotazioni, varie cause che si incontrano diventano un punto luminosissimo allora un'altra componente è la qualità del lavoro l'ho accennato prima e questo è di molto prima perché i tagliapietre di campione ai tempi dei Romani qui siamo nel 59 avanti Cristo facevano alcuni pescatori come dicevo e alcuni siccome c'erano delle cave intorno cavavano la pietra e si arrangiavano a costruire quel che era necessario costruire nel 59 avanti Cristo questo è documentato mi pare da Plinio nel Museo archeologico di Como queste cose sono un po' descritte e questa lapide viene da lì Giulio Cesare fonda nell'area attuale dove c'è adesso Comum Novo Comum cioè la Comu Nuova che evidentemente prima era una cittadina un grande villaggio Cesare ne vuol fare una città e chi è stato a Como sa che Como è centuriata cioè è divisa da un reticolo tipicamente romano di strade perpendicolari che è di quei tempi là e ancora oggi si possono vedere vicino al Duomo si vedono questo tipo di mura che vedete qua queste sono sottoterra perché lì vicino c'è un parcheggio e quindi nel parcheggio si possono vedere queste parti di mura si può vedere anche il cemento proprio eh ma per tenerlo su perché sopra ci sono i piani del parcheggio no? Due o tre osservazioni importanti uno guardate questa muratura d'angolo e le altre questa muratura d'angolo è fatta da un maestro perché vedete che le pietre sono perfettamente commesse perché lo spigolo tenga deve tenere su tutto l'edificio le altre in certi punti sono pietre di riempimento messe dalla manovalanza locale no? certo però lo spigolo che è poi l'elemento eh certo questa cosa mi fa pensare io adesso non so se c'è un parallelismo però ad alcuni tipi di mura megalitiche molto antiche in cui le pietre non sono semplicemente cioè gli angoli sono molto ben strutturati eh così sono una una piccola divagazione ma no senz'altro la cosiddetta pietra d'angolo su cui ho fatto anche quella una conferenza che non faccio adesso viene però dalla Bibbia eh c'è una frase della Bibbia che dice la pietra scartata dai costruttori divenne la pietra d'angolo e poi attraverso una lettura del Vangelo eccetera si identifica questa pietra d'angolo con Gesù Cristo eh però io in una chiesa di campione ristrutturandola restaurandola ho trovato sotto il pavimento una pietra che vi farò vedere un'altra volta rettangolare in corrispondenza dell'incrocio delle diagonali del rettangolo costruttivo che se guardata bene è tagliata secondo le proporzioni auree quindi segna la pietra di fondazione perché la traduzione pietra d'angolo in realtà ha fatto capire male si diceva la pietra fondativa infatti si dice che poi Pietro dice tu sei Pietro e su questa chiesa fonderò quindi comunque la pietra d'angolo costruttivamente importante ma quella cosa che dicevo poco fa io l'ho vista in certe miniature medievali dove si vedono due costruttori che mettono sul culmine della chiesa una pietra allora quella è la pietra che corrisponde a quella che ho trovato io per terra ed è quella attraverso i due punti attraverso i quali la terra si unisce al cielo l'asse del mondo passa per di lì quindi la pietra d'angolo della Bibbia non è la pietra di un angolo la pietra sono queste due pietre la pietra di fondazione e la pietra che conclude la costruzione e che però ci dice a noi uomini che in quel luogo si è in contatto con l'aldilà con l'aldisopra o quello che vogliamo insediando vi dice Giulio Cesare 5.000 colonni romani che non sono pochi per l'epoca però la cosa importante è che dice di cui 500 greci e i 500 greci ce li ha mandati perché in mezzo a quei 500 greci c'erano senz'altro dei maestri costruttori perché allora erano più avanti nel che ne so a Istanbul nel Medio Oriente o in Grecia erano gli eredi della conoscenza dei greci eccetera eccetera quindi ho perso un attimo il video ma ci sono Dario prego prego ecco cosa succede ai maestri campionesi e del lago che i romani cosa hanno fatto prima non a caso ho citato le maestranze di aiuto no la manovalanza nei dintorni chiedono chi sono quelli che sanno usare la pietra o cavare la pietra perché dobbiamo cavare la pietra per portarle qui e qualcuno gli dice i campionesi e comunque quelli che stanno lassù o che stanno nella Val di Intelvi che scende in fondo alla Val di Intelvi sul lago di Como ci sono delle cave di pietra di cui sono fatti questi edifici e quindi chiama Giulio Cesare chiama questa gente a Como e gli fa costruire Como insieme ai grandi maestri che venivano da Roma e che venivano dalla Grecia e quella è stata l'università dei maestri campionesi no e questo è l'altro elemento importantissimo che fa sì che i campionesi da una piccola compagine di tagliapietra siano diventati una grande compagine di architetti e scultori e anche con queste influenze estere orientali diciamo così orientali vedremo poi le influenze orientali ci sono vabbè ve lo anticipo la cosa sta diventando lunga ma poi magari la taglieremo in due parti che fecero i templari quando andarono in oriente o i crociati si portarono al seguito delle maestranze che sapevano costruire Carlo Magno anche se non sbaglio certo ma Carlo Magno si fece costruire la chiesa di Acquisgrana e c'è scritto sui documenti dai Lombardi cioè chiamò noi tra virgolette dalla Lombardia per farsi la chiesa sua e lo si vede la sua ed è anche documentato no a Canterbury chiamarono i Lombardi per farla quindi insomma sono tutte cose documentate non ipotizzate come chi dice non lo so che le piramide le hanno fatte lì a lì a Acquisgrana l'hanno fatta i Lombardi allora di fianco c'è un documento interessantissimo che purtroppo nonostante io abbia fatto una buona fotografia siccome è tutto rotto non si non si legge bene ve lo leggo io vedete qui c'è una linea inclinata c'è una squadra c'è un compasso un po' nascosto qui c'è un regolo che è diciamo il regolo misuratore cioè una staggia un regolo per fare le misure e qui in verticale il manico si vede c'è una spada chi era questo signore l'ingegneria quanti hanno fatto questa analisi di questo reperto non mi ricordo forse uno ecco come ho detto io ho l'occhio dell'architetto vado cercando da 40 anni questo che poi fa cioè diciamo questo che fa la differenza del ricercatore appassionato è il dettaglio cioè il dettaglio che ha un senso empirico con greco come dice Paul Valery in un bellissimo libro che ci consigliò il nostro professore all'università che si chiama Eupalinos Eupalinos era un architetto mitico greco una delle frasi riportate da Paul Valery è Dio sta nei dettagli qualcuno dice il diavolo sta nei dettagli ma in fondo se per diavolo intendi Lucifero cioè colui che porta la luce e quindi la conoscenza nei dettagli ci sono le cose importanti ai nostri tempi lo diceva anche Miss Van der Rohe che ha costruito il Seagram Building cioè che ha fatto ha inventato il grattacielo moderno ecco dicevo questo questa lapide è la lapide di un architetto ingegnere militare di quelli che andavano a seguito dell'esercito io adesso sono stato due anni fa perché li vado a cercare anche in Inghilterra a vedere il Vallo di Adriano è fatto dai Romani ma i Romani non lo facevano costruire il Vallo di Adriano dai 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 barbari tra virgolette che stavano combattendo anche perché quei barbari non sapevano usare la pietra si sono portati dietro questa gente qui cioè questa gente qui che conosceva Vitruvio perché facevano oltre che le mura le catapulte le macchine da guerra i carri e tutte queste cose qui e i campionesi sono stati senz'altro diciamo quelli del lago per non sembrare che io parli solo di quei cosi che però se facciamo una percentuale diciamo che il 70% venivano da campione e i campionesi o del lago furono senz'altro portati dai dai templari che venivano dalla Francia e anche loro passavano da quelle parti e poi si informavano in Oriente perché non so a Rodi e a Cipro e a Creta ci sono dei palazzi che sono chiaramente costruiti con questo tipo di muratura quindi vuol dire che ho il crack che è giù in il grande palazzo dei templari che è costruito in Palestina e sono opera dei maestri lombardi i quali come i templari hanno fatto una grande opera perché perché hanno portato il loro sapere ma ne hanno portato indietro uno pari o superiore a loro quindi hanno imparato tante tecniche che nell'Alto Medioevo si erano perse e che però i famosi greci come dicevo prima si sono tenuti il libro di Euclide era in Grecia in Italia San Colombano a Bobbio fa l'altra famosa biblioteca e lì c'era un Euclide ma tradotto e riassunto in qualche maniera da Boezio per cui già c'era un po' di geometria ma le dimostrazioni geometriche eccetera erano ancora in Grecia o in Medio Oriente e arrivano da noi ai tempi di Lorenzo il Magnifico questa è un'altra storia perché lui manda delle missioni a portare da quelle parti lì la documentazione degli antichi che erano i residui della biblioteca di Alessandria diciamo in un certo senso andiamo avanti la chiesa di Sant'Ambrogio a Milano bellissima dal settecento ottantaquattro quindi vedete nel settecentosettantasette loro ricevono il regalo campione e altri posti non da Totone ma ci sono sette otto luoghi della zona dell'Alta Lombardia e evidentemente ricevendo molte donazioni in quel periodo hanno la possibilità di ampliare il monastero no? e quindi di fare la biblioteca eccetera eccetera questo qui è il porticato anteriore che è un luogo per accogliere i pellegrini perché i pellegrini che venivano a Milano e anche questo lo racconto nel libro vicino al Duomo c'era una chiesa con un grande porticato così e quindi i pellegrini andavano a dormire sotto a questi archi io non ho mai un attimo mi viene soltanto un appassionato adesso lo sai mi viene immediatamente quest'immagine piramidale del tetto dell'edificio cioè diciamo queste proporzioni ritornano visibilmente questo rapporto con Pitagora comunque con le scuole certo la piramide qui ha anche una ragione funzionale cioè il dipluvio del tetto le proporzioni geometriche te ne posso azzartare una qui ma questa io non l'ho disegnata e in un'altra occasione invece vi farò vedere una serie di studi e io chiamo di geometria sacra su varie chiese d'Italia su cui non sono l'unico a averlo fatto hanno fatto anche altri ma su certe chiese l'ho fatto solo io perché mi interessava quella chiesa se voi prendete questa linea qui andate qui salite lungo questa e andate qui riuscite a avere più o meno perché adesso lo dico azzardando qui un quadrato e qui una parte che è circa il 60% in lunghezza questa lunghezza e questa cioè questa lunghezza è circa il 60% di questa qua e cos'è? è la sezione aurea lo immaginavo no? e quindi è una sezione aurea speculare eccetera eccetera che era non solo una cosa per fare quello che dicevo all'inizio cioè far sì che ogni costruzione fosse in rapporto con Dio perché ne usava i numeri i numeri no? ma permettesse anche di progettare cioè non è che uno si metteva lì davanti a un foglio bianco e tirava delle linee come gli piacevano dovevano tornare secondo la geometria cioè se io faccio così disegno un triangolo equilatero per esempio no? e via di questo passo qui dobbiamo fare qui arriviamo certo però ma qui questa è una diapositiva che avevo fatto a Campione quando avevo parlato ai campionesi di questa cosa questo qui è il porto è una un attraco è uno dei pontili del porto di Campione e questo è l'imbarcadero non l'ho fatto vedere qua perché è un'altra opera del porto del imbarcadero di Campione che in realtà è quello dove c'era un pontile ai tempi di Totone perché trasportava le merci dall'altra parte del lago e se ne parla negli statuti nelle leggi però qui vi dico perché appunto io mi ritengo l'ultimo dei campionesi e un architetto che studia e porta avanti la tradizione questo serpente di bronzo è dentro alla chiesa di Sant'Ambrogio dopo pochi metri ci sono due colonne una sulla sinistra che è questa del serpente e una sulla destra sulla quale c'è una croce allora cosa ho fatto io per esempio qui sono andato qua me lo sono fotografato l'ho ammisurato l'ho fatto gettare in bronzo in una fontana che ho fatto a Campione in piazza ho messo per terra la frase della Bibbia che è quella a cui si riferisce anche questo che quando Mosè vide che durante l'attraversamento dei famosi quarant'anni del deserto molti ebrei dice venivano morsicati da serpenti allora andarono da Mosè e gli dissero cosa possiamo fare lui interpellò Dio e Dio gli rispose issa un serpente sopra qualcuno traduce una pertica qualcuno traduce una colonna come abbiamo fatto noi su una colonna e chi lo guarderà sarà salvo cosa si è fatto per la cosiddetta corrispondenza fra Antico e Nuovo Testamento che voi vedrete chi se lo ricorderà dopo Dorena Avanti avendo sentito questo che vi sto dicendo che su molte croci io ho trovato per esempio nel cimitero del mio paesino di cui parlavo prima sulla croce c'è un serpente un po' abbandonato quel serpente è Gesù Cristo cioè è colui che ti salva quindi gli amati di Sant'Ambrogio hanno messo un serpente che avevano preso a Istanbul perché ho trovato altri analoghi e ci sono molte corrispondenze tra simboli appunto che si trovano a Istanbul e dintorni e noi e questo suffraga il discorso che vi facevo prima e lo mettono dentro la chiesa come simbolo di salvezza però ne mettono un altro dall'altra parte per farti capire perché quando si dice libro di pietra o che la cattedrale insegnava anche agli analfabeti se io guardo una colonna che c'è su un serpente e l'altra che c'è su una croce questo che ho detto prima si capisce meglio che la croce e Gesù Cristo corrispondono a questa cosa o io al porto vedete che ho messo siccome quando uno arriva con la barca qui poi questo è l'arrivo e cosa c'è? Una scacchiera questa scacchiera sta qua a Sant'Ambrogio dove c'è la freccetta e che cos'è la scacchiera? è il simbolo delle peripezie della vita che si ritrova poi forse c'è una diapositiva sulla quale non mi posso dilungare ma l'accenno così il bianco e il rosso che è molto usato dai campionesi corrisponde al bianco e nero che c'è nella scacchiera o in tante altre chiese al fatto che il mondo e soprattutto a quei tempi era binario la filosofia era binaria la divisione era tra bene e male tra giorno e notte tra uomo e donna tra positivo e negativo eccetera eccetera e la vita era un al tornarsi del passaggio era un gioco serio del passaggio come quello di Dante nella selva selvaggia cioè io affronto il percorso della vita non sapendo bene dove metto i piedi a seconda di dove lo metto uno mi può mangiare oppure posso proseguire e la cosa migliore è camminare lungo la linea che divide un colore dall'altro ma per fare quello bisogna essere un maestro cioè bisogna essere uno che ha capito quali sono le forze positive negative e cerca di percorrere la strada che sia una mediazione fra queste due perché non se ne può escludere una non esiste una senza l'altra l'ho detta un po' lunga ma sono tutte cose che vengono e che sono trasmesse da questi nostri maestri a Modena vi ho parlato prima della come si dice della via Emilia i campionesi costruiscono soprattutto lungo la via Emilia per per diversi secoli Lanfranco e Villigelmo sono intorno al mille un pochino prima sono l'architetto e lo scultore del duomo di Modena primo qui vedete il 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 signore che assiste al lavoro del cantiere è famosa questa illustrazione è nell'archivio di Modena e c'è uno che scava l'altro che ha un altro trumento quell'altro che porta via le pietre l'altro che porta via le pietre fa anche un po' fatica perché sale qualcosa e ci vuol far vedere che le cave non erano dietro la cattedrale cioè bisogna fare dei chilometri magari e poi infatti cominciarono a usare i carri e come avete visto al duomo cominciano a usare barche fanno carri apposta allargono il navio cioè il problema del trasporto della materia prima cioè della pietra è un problema grandissimo tant'è che al duomo c'è il fratello di quel Jacopo che vi ho citato prima che si chiamava Zeno che è il direttore dei lavori delle cave cioè lui si occupa ma vi racconto un'altra volta in che maniera di estrarre la pietra di lavorarla di spedirla di misurarla eccetera eccetera una cosa questo qui perché è un bastone lungo diciamo circa 50 60 cm lo vedete lì dove ci sono delle misure però nel museo egizio di Torino ce n'è uno d'oro di uno degli architetti delle piramidi perché poi diventava un elemento simbolico per quello l'ho chiamato bacculo è il bastone del comando che segna il comando non è che uno adopera per darlo in testa a chi sta lavorando male però su questi bastoni e anche su quello di Torino d'oro ci sono delle misure ci sono per dire il pollice il piede il palmo e addirittura poi in certi casi diventa più lungo c'è che ne so il palmo milanese e il palmo piacentino perché erano anche diversi a seconda dei luoghi di provenienza comunque il maestro direttore ingegnere è colui che comanda il cantiere e conosce la misura nel tempio di Delphi la famosa scritta che dice uomo conosci te stesso pochi dicono che poi aggiunge e conosci la misura la misura è sempre torniamo a quello che abbiamo detto prima è la misura dell'universo cioè su quali proporzioni o misure è costruita la mia costruzione e la mia costruzione è costruita per esempio sul cubito che è dalla cima delle dita al gomito o sul piede o sul palmo che non a caso sono le misure dell'uomo e l'uomo su cosa è costruito sulla sezione aurea basta ricordare quel disegno famoso di Leonardo quindi Vitruvio torniamo a Vitruvio certo e questi qui vedete hanno tutti i loro portano anche qua si potrebbe lavorarci molto i mattoni per terra i vari strumenti per tagliare per sbozzare per trasportare eccetera qui ho messo due illustrazioni una di Viligelmo e già questa illustrazione è di un tempo successivo alla vita di Viligelmo ma di Enrico da Campione che vedremo dopo perché un'altra cosa interessante che molti non osservano è che le chiese romaniche ancora più che le cattedrali perché le cattedrali hanno una loro forma definita sono in realtà un palissesto sembrano qualcosa di unito ma sono fatte dalla tradizione per quello che io ogni tanto dico sono un architetto tradizionale perché l'architettura nasce su se stessa usando fisicamente dei materiali che esistevano già quindi si chiama reimpiego io posso usare delle pietre di demolizione e succede anche al Duomo particolarmente belle o utili per fare un pezzo di una costruzione nuova oppure posso usare delle sculture che c'erano prima con un'impaginazione diversa probabilmente questa scultura di Viligermo poteva addirittura essere davanti all'altare invece qui all'esterno perché c'è tutta una costruzione qui c'è la storia sacra vedete c'è tutta una costruzione che chi arriva davanti alla chiesa legge già appunto come un libro di pietra anche un ignorante ignorante nel senso che è un alfabeta non ha letto la Bibbia può vedere Adamo ed Eva Eva che nasce dalla costola della costola di Adamo eccetera eccetera però questi maestri vedete adoperavano sia le opere di chi era arrivato appena prima di loro sia le opere dei romani questo fanciullo con un upifero uno strumento musicale e una corona di lauro e una specie di Fenice voi trovate questi tre elementi nei sarcofagi romani quindi Villigelmo che forse ha fatto anche questo e comunque gli architetti che sono venuti dopo di loro hanno visto Roma o hanno visto a Milano o a Como le sculture dei romani quindi non arrivavano lì anche lì improvvisando riprendevano la cultura più antica dandogli un nuovo significato sia come localizzazione per la reazione fra una cosa e l'altra qui si parla di morte qui invece si parla di nascita e anche qui è più difficile ma si può ricordare la Fenice qui c'è un elemento di fuoco la face di questo di questo fanciullo insomma c'è da farci tutta una storia su questo pezzo e però questo mi aiuta a capire che i sarcofagi romani non erano ignoti a questi costruttori anzi diventavano un elemento della loro costruzione questo è il Duomo di Modena davanti infatti quello che vi ho fatto vedere prima sta qui 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 è simmetrico di là qui e poi anche sui lati eccetera o questo portale di cui poi vi parlerò i portali sono un'invenzione dei maestri del lago sono l'ingresso al luogo sacro poi vi dico un pochino il perché e il per come non so questo rosone che è un altro elemento importantissimo rosone perché porta la luce poi per dire le divisioni numeriche di questi raggi dicono sempre qualcosa per esempio sono sei dodici un multiplo di dodici i ventiquattro sono i vecchi saggi dell'apocalisse eccetera eccetera cioè il rosone ci comunica anche il rapporto per esempio tra questo cerchio questo cerchio questo e quest'altro spesso evocano la sezione aurea quindi è una è uno è uno strumento di comunicazione e di geometria sacra incredibile cioè non è un'invenzione che dice ah io ho deciso di farlo assolutamente ho accennato ai portali i portali dicevo segnano l'ingresso al luogo sacro non lo a caso lo chiamo luogo sacro perché lo facevano già gli egizi attraverso due leoni paralleli nelle mappe antiche c'era scritto ixunt leones cioè i leoni segnavano il passaggio dal mondo conosciuto al mondo sconosciuto qui filosoficamente si dice tu stai entrando dalla banalità del quotidiano misurabile con gli occhi e con le mani a un luogo sacro in cui tu diventi un'altra persona cioè hai la possibilità attraverso la meditazione sui simboli che io ti sto facendo vedere di capire qualcosa di più di usare il tuo cervello in maniera più creativa quindi quello che ti raccontavo anche nella prima chiacchierata che abbiamo fatto è che l'analisi dei simboli non è un gioco per cui chi ne sa di più ti dice il leone rappresenta la forza o come qua il leone a terra e cavaliere e cosa vuol dire che a terra e cavaliere voglio dire allora tu per cercare di capire magari dieci persone lo interpretano in dieci modi diversi ma se vogliono capire non vanno da uno che ha scritto in un libro che il leone a terra e cavaliere cercano loro attraverso la loro conoscenza che può essere anche la sensibilità personale perché e giustamente ne può venire una spiegazione personale in base alla propria vita uno può identificarsi o che ne so o dire secondo lui cosa sta succedendo a questo cavaliere perché il leone guarda da un'altra parte non lo sta mangiando per esempio tanto per dire una roba come ognuno può vedere in maniera diversa ecco qui ho scritto Anselmo Enrico da Campione nel Duomo di Modena perché questi sono i due che sono succedute a Lanfranco e Villigelmo mentre Lanfranco e Villigelmo nessuno dei grandi studiosi ha osato perché loro vorrebbero che ci fosse scritto in un registro dei battesimi e non c'è ha osato dire da dove venivano però una volta io ho fatto liceo scientifico c'era la dimostrazione per assurdo cioè perché non dovevano venire dei laghi da dove venivano quei due lì visto che quelli che vengono dopo di loro sono dei maestri del lago e tutta la loro famiglia perché Anselmo arriva lì un po' prima a Modena ed è lo zio di Enrico il contratto di lavoro di Enrico è un un libretto proprio in cui ci sono tutte le clausole del lavoro e nel quale la cosa importante per noi è che c'è scritto tu e la tua affidiamo a te e alla tua famiglia tu che sei nipote di Anselmo si ne die la ristrutturazione la nuova costruzione del Duomo di Modena vuol dire affidare una famiglia per secoli infatti la famiglia di Enrico ha lavorato lì per quasi un secolo figli nipoti eccetera e allora chi è venuto prima vuol dire che veniva da lì era un parente di un po' di tempo prima tanto più che il nome Viligelmo è un caratteristico nome germanico non c'è nessuno che si chiama Viligelmo in altre parti ecco e Lanfranco ha invece un po' una valenza francese ma in ogni caso si dice che questi maestri viaggiavano o lavoravano fra Italia Francia e Germania anche di questo ho parlato nel libro del Duomo lì è chiaro perché mette i nomi si capisce che sono stati là si capisce che Marco da Carona era amico di uno che stava in Baviera e lo raccomanda come scultore vuol dire che a quei tempi non c'era internet vuol dire che ha lavorato con lui lassù ha visto che era bravo e lo ha mandato a chiamare al Duomo ecco quindi questo qui invece è una roba magnifica è il pulpito ma è lungo tutta la chiesa cioè divide la parte dell'altare che è soprelevato qui c'è una scala dalla parte dei fedeli è fatto da un semo da campione qui vedete questa bella cosa che la scultura ha conservato i colori perché a quei tempi anche se si dice Le Corbusier anche ha ripreso uno scritto medievale dicendo al tempo le cattedrali erano bianche in realtà non erano bianche cioè non è che tutta questa facciata fosse colorata ma queste sculture sì perché dentro hanno mantenuto la colorazione e qui l'ho messo perché nel pavimento vedete usato in un'altra maniera il bianco e il rosso dei campionesi i campionesi siccome uno dei luoghi dove loro hanno lavorato vedremo poi è Verona quello è il rosso di Verona è il rosso di Verona e quest'altro è il marmo o Botticino o il marmo chiaro di Verona perché si capisce che come a Candoglia a Verona nelle cave sono stati chiamati dei bravi cavatori lombardi che hanno che gestivano le cave e quindi in tutte le loro opere o vendevano o ci mettevano il marmo che loro adoperavano perché l'altro marmo nero per esempio per quanto riguarda la Lombardia a Varenna c'è il marmo nero ma ce n'è molto meno di quanto ce ne sia stato e ce ne sia tuttora a Verona qui io posso andare avanti se vuoi fammi una domanda e magari poi possiamo anche dividere in due questa comunicazione perché non dico che siamo a metà siamo a 60 o 70% e ci sono anche degli altri elementi interessanti io lo trovo a parte molto interessante naturalmente ogni immagine io vedo una simbologia anche quelle già semplicemente quel rettangolo con le quattro chiamiamo le nicchie insomma laterali però questo magari lo affronteremo proprio su una puntata sulla simbologia medievale però no no prego ti chiederei di andare avanti io vado avanti e poi casomai il nostro è molto omogeneo e chiaro quindi prego dico che tecnicamente si può anche poi dividere in due e fare una piccola introduzione alla seconda parte volendo sì che potrebbe cominciare da qui ecco sì perché qui si comincia a parlare di dettagli anche no quali sono i dettagli dicevo prima San Colombano è un predicatore irlandese che viene in Italia tra l'altro da chi è favorito da Teodolinda che gli dà dei soldi per fare il monastero di Bobbio è incredibile cioè è incredibile non dico che sono l'unico ma quasi si tratta di riunire ciò che è sparso cioè tutti questi figli che in realtà fanno parte di un'unica trama e costituiscono il tappeto quello che dicevo all'inizio la trama nel tappeto no quando la riconosci allora capisci tutti tutte le cose vanno al loro posto quindi San Colombano che poi c'è un libro adesso non mi ricordo il titolo che è i monaci che fondarono le cattedrali non lo so perché in effetti molti monaci irlandesi il più famoso è San Colombano e poi in Lombardia c'è la chiesa di San Colombano all'Ambro cioè ci sono anche chiese ma la più famosa è il monastero di San Colombano che diventò tra l'altro appunto una delle biblioteche più note in Europa un papa adesso cerco di farmi venire il nome comunque poi mi verrà a Bobbio passavano i grandi studiosi che non so che venivano dalla scuola di Chartres perché a Bobbio c'erano i libri appunto di Euclide cioè c'era moltissimo materiale o filosofico c'era Aristotile eccetera e quindi venivano da tutta Europa a Bobbio per studiare infatti a Bobbio il monastero era grandissimo scusa mi viene il nome io per forza di me guardavo guardando questa illustrazione è già di per sé un'enciclopedia ci sono ci sono i pavoni cioè se non sbaglio il labirinto ci sono le spirali sì sembra questa qui è veramente è piena di riferimenti simbolici eccezionali adesso ti mostro rapidamente ma l'ho voluto far vedere perché c'è la confluenza dell'iconografia tra virgolette barbarica cioè da questa il book of Kells è il più famoso messale del medioevo fatto dai monaci irlandesi ma se vedi le altre pagine è in gran parte preso iconograficamente da un'iconografia celtica bellissimo in cui la natura esplode no e aiuta a mostrare un simbolo come questo che diventa poi al alato delle spallette della porta delle cattedrali il cosiddetto tralcio abitato un'altra cosa dantesca perché se farete caso nelle cattedrali e nelle chiese romaniche sui lati della porta c'è questo tralcio di vite anche perché poi Cristo si dice io sono la vita ma all'interno di questo tralcio che è un groviglio ci sono uccellini però l'uccello significa anche l'anima ci sono ometti l'uomo che attraversa la selva appunto e vari altri elementi che sono gli avvenimenti o le le questioni o le disperazioni che l'uomo trova o gli ostacoli per attraversare la vita e qui vedete che voglio andiamo avanti ce n'è uno bellissimo infatti come ti dicevo poi sono da vedere che è di l'opera di Giorgio D'Acomo ho ritrovato il Duomo di Fermo il portale del Duomo di Fermo è attribuito a Giorgio D'Acomo è un portale bellissimo sono andato troppo avanti come faccio a tornare indietro con la freccetta adesso mi fa quello scherzo che ti dicevo che non mi fa tornare indietro se dico esce forse funziona eri alla 11 ero a questa ecco vista presentazione ecco dicevo erano un oh Dio devo far così dicevo che i manuali iconografici per questi architetti erano questi qui cioè i monaci del nord hanno portato giù tutte queste cose che tu giustamente hai individuato non so i due pavoni affrontati ci sono già nella architettura o nella decorazione tombale paleocristiana o romana solo che magari in quelli paleocristiani non so se ho messo un'illustrazione fra i due c'è una croce negli altri c'è una fonte una fonte la fonte della vita ecco è lo stesso questi personaggi qui questi sono questo è un cherubino se tu guardi il libro dei re dove si descrive la costruzione del tempio di Salomone che avete intravisto l'immagine che mi è saltata fuori prima si dice nella Bibbia che all'interno l'edificio era decorato da cherubini quindi siamo già qualche migliaio di anni prima veramente si ricollegano tantissime cose ecco no e questa è la parte longobarda cioè io quando volevo fare un accenno su questa cosa di cui parlavi anche tu il valore simbolico che è secondo me un metalinguaggio cioè al di là dell'interpretazione del segno di per sé il fatto di chiedersi il perché di quel motivo di quel disegno e poi accendere la curiosità di andarlo a ricollegare a ritrovare in altri posti è una è un metalinguaggio cioè un linguaggio oltre il linguaggio è un qualcosa che agisce più profondamente sulla coscienza o sull'intelletto poi per dirsi voglia questo del pavone è significativo perché chi cioè chi ne ha l'interesse lo ritroverà in un'enorme quantità di di luoghi spesso sacri sparsi nel tempo oltre che nello spazio in un modo in un modo sorprendente al di là di quello che di per sé voleva significare in quella specifica opera tutto qua e come hai detto giustamente tu tu hai detto metalinguaggio io dico più semplicemente mezzo di comunicazione l'uomo prima di scrivere comunicava attraverso dei simboli faceva probabilmente dei gesti indicava qualcosa che è quello che succede un po' quando uno parla con un altro che non ha con lui in comune la lingua gli fa qualche disegno io per esempio quando ero lì in Scozia pur conoscendo un po' l'inglese ma non approfonditamente ho spiegato il portale romanico a un personaggio importante il cui figlio era un architetto e su un tovagliolo di carta gli ho disegnato il portale facendogli vedere le colonne i capitelli i leoni eccetera lui ha capito perfettamente e mi ha detto domani farò una bellissima figura con mio figlio architetto cioè ho usato quel metodo lì per comunicare in più c'è quello che anche tu hai hai rammentato che facendo questa cosa ti obblighi a un lavoro mentale a un lavoro mentale è una ginnastica mentale esattamente cioè capisci poi meglio anche altre cose e capisci quali sono gli strumenti di comunicazione che per esempio passa attraverso o di conoscenza attraverso l'intuizione l'intuizione non è spiegabile o trasmissibile è qualcosa che succede a un certo punto di questo tuo lavoro mentale come dice lo zen a è questo dice il maestro quando ha l'illuminazione ecco questa parte è la croce longobarda che veniva cucita sulle vesti che erano di lino bianco per i ricchi dei longobardi quando venivano sepolti e testimonia ovviamente la loro cristianizzazione non è questa qui perché quella di campione era un po' rovinata non lo so ma non potete immaginare la mia emozione quando dopo aver detto alla soprintendenza venite su e scavate perché sono sicuro che sotto la chiesa attuale c'è la chiesa di Totone abbiamo trovato alcune tombe una tomba aveva sopra una copertura di pietra alta quasi 20 centimetri larga un metro e venti e profonda due metri e cinquanta l'abbiamo tirata su e sotto c'erano due scheletri c'erano un po' di queste croci c'era un anello bizantino poi ho saputo cioè che risaliva a un paio di secoli prima e c'erano dei pendenti degli orecchini che probabilmente Totone ve l'ho citata all'inizio aveva un paio di sorelle che devono aver sposato forse qualcuno altrove comunque non abbiamo documentazione su quello ma che hanno lasciato i famosi botti contenitori di olio alle chiese milanesi e quindi certamente una di queste era una delle sorelle di Totone perché quando lui dice la mia casa è la mia chiesa è chiaro che parla della sua cappella di famiglia e quindi chi c'è sepolto lì se non la sua famiglia di una di queste nella chiesa perché io ho due chiese a campione una è un oratorio e l'altra è la chiesa poi diventata chiesa parocchiale nell'oratorio c'è un pezzo risalente all'epoca Longobarda c'era dentro uno scheletro con il teschio ben conformato una ditta di Como adesso li fanno ancora meglio che è specializzata nella ricostruzione della forma della faccia a partire dallo scheletro ha ricostruito un volto femminile di una donna alta perché c'era lo scheletro con gli zigomi alti gli occhi un po' a mandorla e io dissi a quei tempi lì era sindaco di campione una signora svedese che era alta e assomigliava a quella ricostruzione perché veniva da quelle parti lassù e quindi come abbiamo detto adesso anche diffusamente poi all'interno della croce ci sono decorazioni analoghe a queste qua i maestri hanno avuto in mano questi elementi decorativi perché gli scribi disegnavano gli incisori Longobardi sbalzavano l'oro o altri metalli e gli architetti scultori da lì ingrandendoli in scala hanno costruito la decorazione delle loro chiese ecco qui che vedete i due famosi pavoni che pilucano una croce ma chiaramente al posto di questa croce c'era un vaso cioè c'era la fonte della vita quindi questa può essere la rielaborazione di un sarcofago romano e cristianizzato perché i cristiani hanno cristianizzato molta anche dell'arte per dire una l'iconografia di Iside con Osiride e sul ginocchio il bambino è la stessa della Madonna quindi è qui lo stesso lo vedete anche un po' che questa croce è un pochino diversa come fattura dalla raffinatezza di altre cose quindi non c'è niente di male però questo dimostra chiaramente che i simboli sono emigrati c'è un libro di Edgar Gwynn che si chiama La migrazione dei simboli che effettivamente si sono evoluti a partire da quello precedente ma tutto sommato un'analogia c'è qui c'era la fonte della vita la croce per il cristiano è la vita la resurrezione eccetera eccetera e poi vedete qui la selva con questi qui secondo me sono due vogliono essere due leoni quindi i due leoni che sono una presenza fissa quando si parla di cose sacre di limiti e di ingresso in un mondo che è quello del sacro i due leoni sono presenti mentre i cervi in genere rappresentano di più l'innocenza la purezza eccetera a Modena vedete che ci sono questi questi che sono leoni in realtà questa è una criniera che mangiano due serpenti i quali vanno qua sulla parte retrostante dei due quindi non è è un combattimento ma è anche un modo di rappresentare il rapporto reciproco fra forze complementari e insieme contrastanti e questo elemento del nodo eccetera ritorna molto nelle decorazioni per esempio ci sono le cosiddette colonne a nodi e c'è un po' perché è utile per la decorazione per la simmetria della decorazione è un po' perché se uno appunto comincia a pensarci dice ma sono annodati perché hanno due forze collegate fra loro no e queste forze non distruggono perché questi due se riguardi bene non li hanno disegnati con le zanne affondate sulle terga di questi due e addirittura questi due non mangiano le loro code ma sembra quasi che la coda esca dalla bocca esca dalla bocca sì il simbolo è sempre qualcosa di ambiguo o meglio di ambivalente che vuol dire una cosa è il suo contrario quindi io qui posso pensare e anche sviluppare in me questo pensiero dell'ingoiare o posso dire quello dell'espellere il famoso anche quello sarà oggetto di una cosa sui simboli l'uoboro l'uomo verde il green man ah ok io pensavo all'uoboro l'uomo che dalla bocca dalla cui bocca fuoriesce un tralcio e c'è nel portale sinistro guardando San Marco a Venezia quello ve lo racconterò quella volta lì c'è l'espulsione di un elemento vitale e cosa rappresenta quel signore verde rappresenta il creatore della natura che emette i fili della costruzione di questa natura quindi insomma eccolo qua il tralcio abitato qui si vede lo stesso uroboro ti dicevo Dario è il serpente che si mangia la coda ma potrebbe anche essere letto come il serpente che nasce da se stesso da se stesso e quello è una rappresentazione dico io del moto continuo del cosmo cioè il cosmo continuamente ce lo può dire un fisico quantistico si distrugge e si rigenera si distrugge e si rigenera e l'uroborus rappresenta quello vedete che anche qui c'è una specie di quella roba lì di cui stavamo dicendo quindi non è che siamo di fronte ad elementi che erano meno evolute delle nostre probabilmente siamo noi che ci camminiamo sulle spalle dei gigati